La cultura come fattore di sviluppo del territorio e questo è il valore promosso dalla manifestazione Sol dell'Alba giunta alla sua quinta edizione. Per promuovere l'evento presentato a Bari nella sede di Confindustria Puglia e in programma il prossimo 5 agosto a Bisceglie, è stato firmato un protocollo di intesa tra il comune della provincia Bat e l'organizzazione regionale delle imprese. È un progetto eccezionalmente valido, il Sol dell'Alba è un progetto che è un connubio di valorizzazione del territorio perché si valorizza il comune di Biceglie ma non solo il comune di Biceglie, l'intera Puglia con un evento culturale eccezionalmente valido, con 70 orchestrali, con il sole che nasce dal mare e quindi veramente il Sol dell'Alba e con il lavoro, il lavoro dei pasticceri, dei pasticceri di Biceglie che produrranno dei sospiri che verranno dati gratuitamente a tutti i partecipanti. Riunendo arte e cultura con l'idea di coinvolgere le aziende del territorio e soprattutto le aziende che producono prodotti artigianali e caratteristici nel nostro territorio si è trasformato in un potente strumento di diffusione della conoscenza della città di Biceglie e quindi era giusto siglare un protocollo affinché questa bellissima intuizione nata dall'orchestra filarmonica pugliese da Laura a Bienna si trasformasse ufficialmente in un compagno di viaggio della bellezza della nostra città. Sol dell'Alba non è solo un concerto di musica classica sul mare alle prime luci del giorno ma un vero e proprio evento che racchiude in sé un insieme di spettacoli come sottolineato dal direttore artistico Giacomo Piepoli. Quest'anno è l'edizione del sogno, inutile svelare come non lo abbiamo fatto neanche l'anno scorso il programma musicale perché l'anno scorso l'anno della pazzia veramente ha fatto impazzire tutti i presenti per le sorprese a cui hanno assistito e quest'anno gli spettatori invece verranno avvolti in un sogno prima immaginandosi che cosa si possono aspettare dal punto di vista musicale poi rimarranno coinvolti e sorpresi verranno abbracciati da quello che può essere un sogno ad occhi aperti come solo Sol dell'Alba può veramente regalare un giorno da sogno come sarà il 5 agosto 2023.